E' trascorsa una settimana da quando ho postato l'ultimo video, eravamo appena all'inizio di questa importante e forte emergenza coronavirus perché siamo tutti quanti stati invitati ad essere a casa, erano trascorsi alcuni giorni, avevamo già, almeno io, avevo la sensazione di qualcosa di profondamente cambiato nella mia vita quotidiana, evidentemente costretto a casa, lavorando a casa, rimpossessandomi della mia casa per certi versi. Ora sono passati altri sette giorni, la situazione non è evidentemente migliorata, anzi le restrizioni della nostra vita quotidiana sono ulteriormente aumentate e come abbiamo visto non si può andare a correre nei parchi, sono stati chiusi, si può uscire solo per evidenti motivi di necessità o di salute oppure per fare una passeggiata o comunque vicino casa correndo da soli. Si è dibattuto molto in questi giorni, io capisco che è difficile rinunciare a quello che ci fa star bene, a quella che è un'esigenza bella, se vogliamo, quella di fare sport, sappiamo quanto lo sport faccia bene al nostro fisico e anche e soprattutto alla nostra mente, alla nostra anima, però in questo momento per il bene nostro e di tutti quanti dobbiamo rinunciare. Non è possibile una vita in questo momento senza rinunce, rinunce più forti, più grandi, più stringenti rispetto a quelle che già facciamo nella vita normale. Ed è così, ed è evidente che proprio in un clima come questo, dove più che mai ora dobbiamo stare a casa e limitare al massimo ogni nostro spostamento, anche andare al supermercato, sì, dobbiamo, possiamo, ma non andarci tutti i giorni per comprare un litro di latte piuttosto che una scatola di biscotti. Quando andiamo, andiamo e facciamo. Ma io non voglio fare prediche perché non spetta a me e ognuno sa cosa è giusto e meglio fare. Però in questi giorni vengo al mio ambito, quello sportivo, si è molto discusso, sul viaggio in Argentina di Higuain, piuttosto che quello di Pjanic e Lussemburgo, di Chedira in Germania, di altri giocatori come il Serbi Jokovic e Nenkovic che sono stati addirittura denunciati. E credo, quando si parla di queste situazioni e anche evidentemente di calciatori, uno deve togliersi la propria maglia, non bisogna essere né della Juventus né della Lazio, della Roma o del Napoli, né essere a favore o essere contro. Bisogna essere razionali, bisogna spogliarsi del tifo, almeno in questo momento facciamolo. È evidente che c'è un forte contrasto con quello a cui noi siamo costretti, a quale noi ci atteniamo. Magari non vediamo i nostri cari, i nostri familiari pur abitando a un chilometro di distanza perché ci è stato detto che non dobbiamo uscire. Vedere i calciatori che prendono aerei, che fanno tre scali per andare a raggiungere i loro familiari, quindi con motivi evidentemente più che plausibili, è chiaro che fa discutere e lascia perplessi sulla giustezza di una decisione simile. Ognuno poi ha il suo pensiero, però ecco, mi piacerebbe che almeno in questo momento veramente ci spogliassimo del tifo, dell'appartenenza, dell'uno contro un altro e che fossimo una comunità. Restiamo uniti oltre a restare a casa.